Dopo i giudici di Cassazione, anche quelli del resame di Caltanissetta hanno decretato l'accoglimento delle richieste avanzate dai difensori delle 54enne. Emanuele Susino è stato annullato il provvedimento di custodia cautelare in carcere insieme al fratello Giuseppe. Anche per lui la Cassazione ha deciso il rinvio di nuovo ai giudici nissani del resame. La scorsa estate era stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver avuto a disposizione la rimessa nella quale era nascosta una pistola insieme a munizioni e caricatori. L'arma è stata ritrovata all'interno di uno dei mezzi parcheggiati nell'area a Roccazelle. I difensori, gli avvocati Vittorio Giardino e Giuseppe Nicosia, hanno impugnato il provvedimento d'arresto escludendo l'esistenza dei presupposti, una linea che ha convinto sia i giudici romani di Cassazione sia quelli del resame. Una decisione analoga potrebbe arrivare a breve per il fratello Giuseppe. Hanno sempre escluso di sapere della pistola e delle munizioni. Entrambi sono attualmente a processo per rispondere dei fatti contestati dopo la perquisizione. Insieme a loro sono state coinvolte altre due persone. Per i giudici però il provvedimento d'arresto era infondato, per questo lo hanno annullato. Attualmente entrambi non sono sottoposti ad alcuna misura.